buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale tutto dal web in questi giorni su netflix c'è la serie docufilm proprio di lari blasi intitolata unica lì ovviamente parla del rapporto della crisi con suo ex marito francesco totti la presentatrice infatti dell'isola dei famosi ha raccontato tutto tutto tranne però il nome di questa persona che pare avrebbe scaturito in totti una forte gelosia per poi tradirla chiamatosi così l'uomo del caffè secondo i quotidiani e i siti più importanti l'uomo misterioso sarebbe proprio lui cristiano io vino ed è proprio il messaggero che riporta e scrive così alessia solidani 48 anni e la figura chiave della crisi tra francesco totti e ilary blasi amica parrucchiere confidente lei e ilary si conoscono da quando erano adolescenti e entrambe sognavano di sfondare nel mondo dello spettacolo proprio alessia però avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e questo pare uomo del caffè che sarebbe come vi dicevo il personal trainer cristiano io vino di cui ilary parla continuamente nel documentario unica da gospia il settimanale oggi e altri settimanali parlano sempre e solo di lui quindi pare sia lui l'uomo misterioso l'uomo per cui francesco totti si sarebbe ingelosito e voi cosa ne pensate avete visto il docufilm di ilary blasi unica scrivetemelo già nei commenti lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima